Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziaria, nuove opportunità per i giovani. Sono gli argomenti affrontati ad Avetrana con gli onorevoli Ubaldo Pagano e Mario Turco per iniziativa dell'Associazione di Promozione Sociale Rilanciamo Avetrana Insieme. Una delle cose più importanti per noi è la crescita economica di questo territorio e ovviamente avere degli ospiti illustri che possano spiegarci quale può essere la crescita anche secondo le misure di questo governo per noi è molto importante. Tanti giovani fermi ai box che non hanno un lavoro, non hanno una formazione e non hanno gli obiettivi. Questa è la grande missione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ci sono ritardi e la politica deve rispondere alle esigenze dei giovani. Occorre creare le condizioni per poter dare al proprio territorio un'occasione di sviluppo ai giovani sono per definizione lo sguardo proiettato al futuro. Se loro perdono questa dimensione è chiaro che si perde la possibilità per queste terre di avere un futuro. Un territorio da cui giovani evadono ancora in cerca di occupazione altrove, una prospettiva che però oggi può migliorare grazie alle risorse provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Abbiamo il problema dello spopolamento del territorio pugliese di tanti giovani che purtroppo lasciano il nostro territorio sia per studiare fuori e spesso poi ci ripangono perché lavorano. Quindi noi dobbiamo cercare di invertire questo flusso e quindi dare competenze e cercare di spenderle in Puglia.